Le polemiche sull'ecotassa sono ancora fin troppo vive. Si aspettano risposte dal governo e di riflesso anche dall'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Mike Manley. Tuttavia si cerca anche di guardare al futuro con ottimismo, nonostante la cassa integrazione del 2018. Speranze arrivano da siti specializzati in rete che rilanciano quella che potrebbe essere la nuova produzione di casa Fiat, citando anche lo stabilimento di rivolta del re. Entro il 2020 dovrebbe arrivare la svolta, l'ibrido potrebbe entrare a regime, tuttavia da quanto si è capito l'azienda torinese non dovrebbe abbandonare neanche la benzina, almeno sugli utilitari che verranno prodotte e che indirettamente rappresentano le maggiori produzioni per i costi contenuti rispetto agli altri modelli. Le nuove vetture monteranno così ibrido e aspirati, ma anche a benzina, è la base per ripartire lasciandosi il passato alle spalle, dunque ancora benzina per Panda, Fiat 500, ma anche per la Lancia Epsilon. Una buona notizia per Termoli, ci saranno ancora tanti motori da produrre, tuttavia le linee per arrivare all'ibrido dovrebbero essere aggiornate e proprio in questi giorni a Torino si tengono corsi di formazione per il personale. Si stima che per l'ammodernamento delle linee produttive occorreranno almeno 12 mesi, periodo nel quale la produzione a Termoli potrebbe subire una flessione a ribasso, ma quanto avverrà viene già definito fisiologico, proprio per poter intervenire all'interno dello stabilimento. La notizia è stata presa di buon grado, la produzione di motori benzina continuerà per diversi anni ancora e nel contempo sarà avviato anche l'ibrido, così facendo Termoli si manterebbe tra gli stabilimenti di punta della Fiat grazie all'aumento dei volumi per le utilitarie.